...di un giudice, cioè adesso avviene sia per quando fa il provvedimento o non lo fa e poi nella fase successiva. Ma siamo uguali tutti di fronte alla legge o no? Questa è la domanda, perché le faccio il mio caso per non parlare di altri? Perché io ho dovuto aspettare otto denunce per avere un provvedimento e successivamente il provvedimento la persona ha continuato e perciò c'è stata un'interazione a quello? Primo caso. Perché altri non fanno il provvedimento e quindi le forze dell'ordine vengono, lo guardano, perquisiscono e lo rimandano a casa? Cioè allora io al PM dissi scusi ma quante denunce devo fare per avere un provvedimento? Scusi ma quali sono i criteri che devo utilizzare o che tra virgolette anche lo stalker sa benissimo il limite per avere un provvedimento o no? Questa è anche la furbizia di alcuni stalker. Devo arrivare ferita o con l'acido o addirittura qualcosa di peggio? Io non ho trovato sensibilità in questo, però non ho trovato neanche un giudice che abbia pagato per un errore commesso. Per non aver fatto il provvedimento e poi quella donna è stata uccisa. Questo non è vero perché poi sono stati un accontro fatto. E' stato un caso, ma gli altri è stato un caso. Non è così perché sono stati sottoposti tantissimi a provvedimento disciplinare per questo. Sì ma sono stati indagati, ma poi intanto la vittima c'è stata. Quella signora in Sicilia che ha denunciato 12 volte, non c'è stato il provvedimento e il marito l'ha uccisa? E qui chi ha pagato? Lì c'è stata. La signora, punto. Vincere.